Siamo un po' fortemente preoccupati, un po' tutte le proloco, perché spesso non ci si ricorda che le proloco organizzano grandi eventi nei nostri borghi, senza le proloco non si potrebbero organizzare così tante manifestazioni attrattive, non solo per la nostra provincia, ma di tutta la regione e anche da tutta Italia. Chiediamo a gran voce, a gran forza, abbiamo già incontrato in questi periodi assessori, ringrazio anche Baldelli, la regione Marche e gli altri assessori consiglieri che abbiamo incontrato della regione, perché non si debbano dimenticare delle proloco. È vero che in questo momento sono ferme, ma guardate che bisogna stare molto attenti perché poi si può rischiare anche la chiusura delle proloco, se non si aiutano a mantenerle vive. I volontari sono fortemente preoccupati, proprio in questo periodo abbiamo cercato di aprire un'attività social importante che si protrae dal Natale. Grazie al Natale che non ti aspetti, la cosa che mi risalta di più sono le storie del cuore, quindi far parlare i giovani, le persone del paese, in modo che si possa parlare e continuare a essere parte attiva di quel borgo, di quella località. Continuiamo a parlare sui siti delle botteghe, quindi di tutte le piccole botteghe, grandi botteghe, produttori, artigianato artistico, continuiamo a parlare proprio per aiutare il territorio, per non farlo spegnere, perché è pericoloso. Se noi andiamo a spegnere il turismo, che sarà la prima ripartenza, siamo fiduciosi che si ripartirà presto e anzi ringraziamo la regione per questo ascolto, questa antenna aperta. Però c'è bisogno di un concreto contributo a tutte le proloco marchigiane. Io penso non solo alla nostra provincia, ma penso anche a tutte le altre proloco delle Marche, su una progettazione che si facciano delle leggi apposite per aiutare le proloco, perché le proloco aiutano veramente tanto il nostro territorio. Quello che spesso non si percepisce è che spegnere la proloco non significa spegnere il singolo evento, ma un indotto molto più allargato. Sì, parliamo delle materie prime per l'organizzazione degli eventi, agli allestimenti, quindi agli affitti per gli allestimenti, alla promozione degli stessi eventi, quindi tutte le radio, le televisioni, i giornali, gli spot pubblicitari che si pagano per promuovere quell'evento, ma anche tutto l'indotto dietro per l'acquisto di tutte quelle materie prime che servono a far funzionare gli eventi. Quindi parliamo di illuminazioni, di artisti, di artigianato artistico, parliamo di negozi che vendono anche la ferramenta. Guardi, porto solo un esempio, durante il mercatino di Natale noi alla nostra ferramenta a Monbaroccio gli diamo circa 2.500-3.000 euro, solo per il mercatino di Natale. Quindi pensate voi qual è l'indotto economico che si genera con le proloco, che è veramente, veramente importante e spesso viene sottovalutato. Io penso che possiamo parlare di centinaia e centinaia di migliaia di euro perché intorno ci lavorano veramente tante aziende.